Belli freschi, dal buio dietro, sembra che io stia reccando di notte, in realtà sto reccando alle 10 di mattina Comunque, analisi dei mondiali, tanti amati mondiali, andiamo subito a leggerci il tabellone Tanto, giusto, due parole su quello che è successo No, voglio vedere, boh, andiamo in fase eliminazione diretta, direttamente C'hai i gironi, che cazzo ce ne frega, sinceramente ragazzi, eliminazione diretta Allora, Olanda, Argentina, Croazia, Brasile, Inghilterra, Francia, Marco, Portogallo, Croazia, Marocco, ah no, Croazia, Marocco, alla fine del terzo posto, ok Olanda, Argentina, vittoria dell'Argentina a 4-3 rigori Una delle partite più scorrette, antisportive che abbiamo mai visto, ma sinceramente olandesi a casa, vangata a casa, si gode come dei draghi Parete se un po' uno scemo, però vabbè, sappiamo tutti Sto coglione, comunque meritata, meritata la vittoria dell'Argentina E l'Olanda ha avuto un culo, porco Dio, assurdo, mi ha fatto anche per la schedina Sto bastardo di Weghorst, quindi ho goduto quando ho messo il mio soldato a fine partita Ok ragazzi, andiamo a Argentina-Croazia 3-0 Argentina-Croazia 3-0 E poi vabbè, poi facciamo anche gli altri La Croazia 3-0 Molto bene Bene, cioè alla fine l'Argentina li ha massacrati, c'è che cazzo dobbiamo dire Ok Poi la Croazia è arrivata qui Vincendo 4-2 col Brasile, vabbè, nel senso La Croazia non ha meritato di vincere Però quei coglioni brasiliani sono messi lì a fare i giochetti Non hanno concretizzato un cazzo Sono stati cinici, hanno perso, è il gioco del calcio ragazzi E mi sono incazzato come un drago Perché è successo, perché sapete, io sono un fan del bel gioco Però, obiettivamente, se non finalizzi puoi andare anche a fanculo Infatti, santo fanculo Brasile Ok Poi abbiamo Inghilterra-Francia Marocco-Portogallo Inghilterra-Francia Vabbè, ha vinto Francia 2-1 Per colpa di chi ha incasvalito quel rigore Un partita non troppo brillante della Francia Devo dire la verità C'è la Francia, ma in generale in questo mondiale Cioè, per come Cioè, per la rossa che ha Doveva giocare molto meglio E finalizzare molto di più Però comunque ha vinto Quindi a fine, che cazzo ti puoi dire Ha vinto Cazzo ti puoi dire, niente E basta Kane, se non avesse sbagliato quell'altro rigore Staremmo parlando forse di un altro mondiale Però è andato così Poi, la Francia, vincendo Appunto, va a giocare col Marocco Che in precedenza aveva tutto 1-0 il Portogallo Vabbè, il Portogallo squadretta Ronaldo, vabbè, si è finito Che cazzo dobbiamo parlare di Ronaldo Cioè, Ronaldo sei veramente finito ormai Che cazzo devi dire di Ronaldo Sei finito, non sei più un giocatore Vai a giocare in Arabia, levati al palle E poi la Francia ha tutto 1-0 Appunto il Marocco Vabbè, 1-0 1-0 tutta la partita Il Marocco ha sprecato tanto E è un peccato Perché il Marocco avesse segnato l'1-1 Era un'altra partita Però è andata così E quindi Lo accettiamo, ragazzi Lo accettiamo E prima di parla finale Andiamo sul finale Terzo quarto posto Vabbè, ha vinto a Croazia 2-1 Entrambe abbastanza scazzate Non mi sembrava volessero vincere Perché alla fine Nel momento in cui esci in semifinale Cazzo te ne frega Il terzo quarto posto Vabbè, la Croazia sul podio Vabbè Non cambia tanto Arrivare il terzo quarto C'è una medaglietta Bene E poi arriviamo L'Argentina-Francia 3-3 Nei tempi regolamentari E 4-2 Rigori per l'Argentina Allora ragazzi Ragazzi Questa è tranquillamente Una delle finali più belle Che abbiamo mai visto Non so Dei mondiali In generale Incredibile Cioè, incredibile Tu, porco Dio Vedi Rigorino di Messi Rigorino Non è un rigorino Dembele è uno scemo Quindi giustamente Ok Rigore di Messi Poi gol Azione magistrale Magistrale Per il gol di Di Maria del 2-0 E lì dici È finito Cioè la Francia sta giocando di merda E L'Argentina sta giocando bene Stanno tutti overperformando Perché diciamoci la verità ragazzi Senza Messi Alvarez L'Argentina Non è top 5 squadra Del mondiale Per Rosa Diciamoci la verità E quindi Questo Poi sono andato a fare la doccia Sono tornato Con calma Sarà 2-0 2-2 2-2 Cioè rigore di Mbappé E un minuto dopo Gol di Mbappé Su azione Gran gol Tra l'altro Gran gol di Mbappé Sapete quanto l'odio Beh se non lo sapete Lo dico adesso Però gran gol Gran gol Poi Altra azione In cui Messi Su un rimpallo Segna Gol anche su azione Vabbè dai Di cosa dobbiamo parlare Nel 2022 Devo ancora descrivervi La grandezza di Messi Penso che se avete visto Una partita di calcio Lo potete capire E Basta 3-2 Poi Altro rigore Per quello scemo di Montiel Che ha fatto una cazzata clamorosa Io non ci credo fosse rigore Però beh Era giusto comunque Mbappé segnala il 3-3 Mbappé per la terza volta Emiliano Martinez Nella stessa partita E 3-3 Si deve supplementare Non succede una sega E poi si Si finisce i rigori Ragazzi No scusatemi No aspetta Ma il 3-3 Erano i regolamentari O i supplementari Sapete che non me lo ricordo Erano i supplementari Il 3-3 ragazzi Oh non me lo ricordo Vi giuro Vabbè Comunque A prescindere da questo Andiamo ai rigori E Vabbè Emiliano Martinez Un pararegore eccezionale Che cazzo vi devo dire ragazzi C'è un mostro C'è l'Argentina Ha fatto diverse partite rigori Quanti ne ha fatte? No due Che cazzo dico Non dico diverse Ne ha fatte due E l'ha vinta entrambe Un motivo c'è E non è solo Il merito di quelli che hanno segnato Ma anche di Emiliano Martinez Che ha spaccato Ha spaccato Emiliano Martinez Veramente un fratello E vabbè Vittoria meritata L'Argentina Perché la Francia Ha fatto pene Se Mbappé Non avesse avuto Quelle tre fiammate Non ci sarebbe stata storia Poi cambis Secondo le folli Deschamps Togliere Giroud Togliere Dembélé Vabbè Uno scimmione Giroud però Scimmione Nel senso che Un coglione Non nel senso che Un negro No cazzo Vabbè Comunque Arriviamo appunto Alla vittoria L'Argentina Meritata Secondo me L'Argentina Ha giocato molto meglio La Francia Ha finalizzato di più È più squadra Perché in realtà Banalmente La Francia Dovrebbe essere squadra Mi sembrava compatta Nei gironi Poi non tanto E quindi È così È così Con l'Inghilterra L'Inghilterra Ha sprecato il rigore Con il Marocco Il Marocco Ha sprecato occasioni L'Argentina Non ha sprecato Quindi A casa francesi Argentina Vincitrice nel mondiale Per la terza volta A loro storia E Messi Primo mondiale Messi ce l'ha Ronaldo no Ronaldo stava a piangere Nella sua macchina Come dice la bambina Marocchina Che non mangia più E invece Messi È lì a vincere il mondiale Ridicolo Che si è fatto mettere la tunica Col cazzo Però Beh comunque Ci sta alla fine Lo posso capire Messi E Beh un grande C'è il cazzo Vi devo dire ragazzi Se c'era ancora un dubbio Cioè io Veramente Per me è inconcepibile È inconcepibile Come ci possa essere ancora Il dubbio Su Messi e Ronaldo Già non c'era da anni Già non c'era da anni Già non c'era da anni Porco Dio Cioè Si è leggermente Riacceso il dubbio Solo perché Messi Della prima stagione Al PSG Ha fatto me E Ronaldo invece Ha fatto abbastanza bene A United Ma Secondo me Non c'è mai stata Competizione tra i due Cioè io Io personalmente Cioè mi gasava Cioè al prime Mi gasava più Ronaldo Di Messi Però obiettivamente Messi è meglio Cioè Possiamo girarci attorno Quanto volete Vi leggete le statistiche Meglio Messi Vi guardate le partite Meglio Messi Dai Dai ragazzi Nel senso Facciamo i seri Facciamo i seri Perché Qua Stiamo veramente Esagerando Facciamo i cazzo di seri Messi è meglio di Ronaldo È meglio che Ma c'è veramente Cioè i boomer Porco Dio Non sono napoletani Ma comunque in generale Maradona Ma ma Sto cazzo di Maradona Mi avete rotto i coglioni Con sto cazzo di Maradona Porco Dio Ma Maradona Ha fatto 5 anni buoni Nella sua Buoni Nel senso Era un dio Cioè Maradona Quando ha fatto Quei 4-5 anni buoni Era un dio Però non ha tenuto Il livello per 20 anni Messi È stato mostruoso Da sempre Di Ocane Cioè Toglietevi La stagione lì Col PSG La prima In cui comunque Vabbè Ha dispensato molti assist Ma Messi è un mostro Ragazzi Che cazzo dite Maradona Porco Dio Che poi Ma Maradona Ragazzi Ma vaffanculo Maradona Ma Cioè Non c'è un dubbio Non c'è un Allora Io non parlo di Pelé Non parlo di Pelé Perché non mi son visto Tantissime altre cose O di altra gente Tipo Che cazzo Ne so Puskas Di Stefano Che non ho visto troppo È lì Ok Però non sono meglio di Messi Cioè L'unico potrebbe essere Pelé Però dovrà recuperare altre cose Però Maradona Ragazzi Non è meglio di Messi Non è meglio di Messi Porco Dio Già Quando ha fatto 91 gol Nell'anno solare Era ridicolo il confronto Secondo me Adesso Dopo che ha fatto 20 anni Di carriera Praticamente immacolata Tranne forse un paio di stagioni Dai Che cazzo stiamo parlando Ha vinto anche il cazzo di mondiale Vaffanculo Che cazzo deve fare questo Cristiano È il più Porco Dio Ha vinto il mondiale Ha vinto È il giocatore con più Palloni d'oro al mondo Ha Ha record di gol Nell'anno solare Che cazzo deve fare È il miglior assessment della storia Ma che cazzo deve fare Questo Cristiano Porco Dio Cristiano si sono messi Non Cristiano Capite Ma che cazzo deve fare questo Perché tutti lo accettino Come migliore di sempre Porco Dio Cioè ha fatto tutto il possibile Nei limiti umani E anche superandone alcuni Per far capire A sti stronzi Che è il migliore di sempre No Maradona È perché Ma Maradona Porco Dio Cioè possiamo dire Maradona Cioè Maradona Ha avuto una carriera Modesta Cioè non modesta Buo Cioè buo Per quello che ha fatto Cioè Non so come definire La carriera di Maradona Perché un po' Ovviamente altalenante Per i problemi extra calcistici Ma non possiamo Porco Dio Mettere Maradona Come miglior di sempre O metterlo comunque Sopra Messi Per quei 5 anni buoni Che Messi ne ha fatti 20 E se metti Messi Prime È meglio di Maradona Prime Porco Dio Cioè valutiamo la carriera Meglio Messi Valutiamo E Cioè qualsiasi cosa È meglio Messi Cioè non penso Ci sia un parametro In cui Maradona Potrebbe essere meglio di Messi Porco Dio Ma andate a fanculo Voi fan di Maradona Del cazzo Sto Maradona Del cazzo Sto Maradona Del cazzo E basta Il video è finito